Ingoiate. Che cosa significa amare? Commento. Amare significa anche saper essere duri. Non tutti sono pronti per comprendere gli insegnamenti. Questa non è ingiustizia, poiché è inconcepibile un assoluto capace di commettere ingiustizie. Si tratta dell'evoluzione individuale che ha bisogno di seguire i suoi passi e deve avere il suo tempo che è lento. Tutti noi siamo stati porci ai quali le perle non venivano gettate per paura che fossero ingoiate dalla sporcizia che è parte di ogni essere che è all'inizio del suo cammino evolutivo.